Il ruolo degli esterni d'attacco è fondamentale e cruciale negli schemi di Zeeman. A che punto sei nell'assimilare questi schemi? A me mi piace tanto giocare lì d'esterno, tanto a destra come a sinistra. Lui dà tanta importanza a questa posizione. Per me è troppo importante perché sempre sta in gioco, sempre partecipi di tutte le giocate. E niente, penso che è troppo importante stare lì e stare bene. Guarda, io come miei compagni penso che tutti possiamo dare tanto alla squadra. Ma io personalmente penso che sono uno veloce che ha tecnica e posso fare bene gli avanti. Questo pareggio a Cremona, molto diverso da quelli precedenti. Avete un po' una sindrome del pareggio? Perché le rimonte subite possono un po' restarvi nella testa? Anche se poi Cremona è stato un pareggio diverso rispetto agli altri. Sì, sì. Le partite scorse penso che è difficile guardare la partita e dire cosa è successo. perché neanche noi sappiamo cosa succede quando stiamo lì avanti e prendiamo quei gol. Ma qualcosa sicuro dobbiamo cambiare e stiamo lavorando per quello. Dopo il pareggio a Cremona penso che non serve, ma neanche così brutto il risultato. che magari possiamo dare importanza in queste partite precedenti.